Eureka Eureka Benvenuti a Facciamo più Europa, perché è un'altra strada più sicura, affinché l'Italia sia più forte c'è e certo non è quella della chiusura e dei nazionalisti. Questa è una lista di chi vuole scommettere su un centro federalista europeo che si mette al centro della politica. Siamo federalisti, siamo riformatori, vogliamo cambiare l'Italia. Contiamo su più Europa in Italia, perché per tutte le nuove generazioni l'Europa è l'unica futura per questa generazione. Allora insieme avanti alla vittoria. Qualcuno molto più importante di me ha detto, non è solo la responsabilità dell'avversario o dei cattivi. Spesso la responsabilità è che i buoni sono rimasti con le mani in mano. Grazie. 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 Grazie.